la pagina pronto chi parla è al 700 pronto si ciao siamo daniele e fabio di canale 8 questa è una trasmissione televisiva e tu sei in diretta sul canale 187 la trasmissione si chiama pronto chi parla tu vuoi giocare? pronto? pronto? si si pronto pronto fino a pronto ci siamo mi senti? puoi camminare? no ma tu mi senti? si siamo fabio e daniele di canale 8 io faccio la telepon no no la telepon fast web nemmeno ma vedi che faccio vedere troppo bello ma te lo regaliamo vodafone guarda se tu accendi la televisione e ti metti su 187 ci vedi te lo regaliamo vado che faccio vedere come una bannata secondo me vado a pagare il canale 187, in televisione, tu ci vedi e puoi giocare con noi! Ma mi chiedevo, mi chiedevo, mi chiedevo, mi chiedevo, mi chiedevo, mi chiedevo, mi chiedevo Allora, se hai voglia di scherzare Fabio, parla con me, che io sono un po' serio, se tu hai voglia di babbiare con i miei... Allora, Fabio, Fabio che state impostata! Si, esatto, bravo, impostata, 187 che era, un impostato, ci stiamo, non passate! Hai acceso la televisione? No, c'è a te, Fabio! No, io in questo momento sono a bagno! Ah, ti abbiamo disturbato, ma noi siamo amici, gli amici si guardano nel momento del bisogno, siccome sei un po' amico... Allora, allora che devo fare, che devo fare per te per il passato, 45 e... Ma per te pure 40, perché già mi stai simpatico, si ciò può fuori, come ti chiami? Io? Eh? Fano Piazza! Ah, sei Fano Piazza! Stefano Piazza sembra un comico, uno di quelli... Uno di quelli che è bravi! Stefano Piazza, un grande comico che è in giro per tutta la Sicilia, e lo trovate anche nel programma Piazza Grande... Stefano! Che è successo? Che è successo? Non so se si è notato in TV, io arrivato ad un certo punto, l'ho scoppiata a gridare e non potevo più parlare, perché era una venita male! Stefano, come stai? Io benissimo, voi dove state? Bene, bene! Ci stiamo divertendo, ah! Ci stiamo divertendo, mi sono divertito anche ieri, ieri sera, che ti ho ascoltato in diretta su RGS, perché tu stai conducendo, stai facendo il festival, stai... perché abbiamo lì Niele, che ieri, non so se voi avete visto, ma è stata poi... Eh, lo raccontiamo poco fa, che è successo? Niente, l'avevano data dal Biciclice, e poi invece non vi passo il conteggio e lei aveva preso meno voti di Campani, e quindi Campani l'ha gabbata... Mamma mia, mamma mia, queste cose... Ecco, le volte c'è Lorenzo Fragola, c'è la Jurafili, insomma, abbiamo una bella rappresentante, e quindi facciamo questo, facciamo questi, i cialtroni, un po' quello che fate pure voi... Ecco... Ecco, come ti spieghi che tutti i siciliani, cioè, cosi chiama Miele, Fragola... Perché chiamano la Brutta! No, perché siamo alla Brutta! Stiamo mandando, proprio adesso in sovrimpressione, il tuo bel faccione, insieme a Cangelosa, insieme a Marco Manero, insomma, insieme a tutta la tua truppa... Ci dai appuntamento allora stasera, tutti sintonizzati su RGS? Stasera, dalle 20 e 30 in poi, su RGS, sappiamo Siciliano... E smettete da rinforzare i cristiani però, eh! Scusami, Stefano, non facciamo più... Stefano, quando voi ti aspettiamo un po' in studio, felici di averti come ospite, babbiamo, scherziamo, gridiamo... Saremmo lieti! D'accordo! Ragazzi, vi faccio tanti complimenti, vi voglio bene, e andate avanti così che siete bravissimi, vi diamo un braccio forte! Grazie Stefano! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Stefano Piazza, anche lui, cercatelo su Facebook, Piazza Grande, è un programma bellissimo, è quello che fai in giro con la giacca strana e fai l'intervista... Bravo, bravo! Seguito! 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 Seguito!